Frequenta la facoltà di economia e commercio a Roma. Prima di approdare al grande schermo. Lavorava come animatrice nei villaggi turistici e nei locali alla moda. Si diletta nei cabaret romani e di provincia in macchiette divertenti e sexy nello stesso tempo. Notata da Gigi Reggi, storico produttore di Madiasset viene invitata negli studi di Cologna Monzese per un provino che supera in modo eccellente. Infatti sarà poi una delle protagoniste del varietà. La sai l'ultima, virgolette. Nel frattempo viene chiamata da registi e produttori per ruoli brillanti. Un giorno in un locale dove si esibiva viene notata da Claudio Risi il quale le offre un ruolo nel film Matrimonio alle Bamas in seguito da Carlo Vanzina che le propone una partecipazione nella serie tv. Un ciclone in famiglia 4. È legata sentimentalmente a Massimo Boldi. E la sua carriera cinematografica e televisiva la vede affiancata all'alpopolare comico Lombardo. Dai film Matrimonio alle Bahamas. 2007. E La fidanzata di papà. 2008. A Natale mi sposo. 2010. È nelle fiction tv come Un ciclone in famiglia 4. 2008. Un coccodrillo per amico. 2009. E Fratelli benvenuti. Nell'aprile del 2008. Debuta con la compagnia teatrale di Enzo Salvi nella commedia Fratelli. D'Italia al Salone Margherita a Roma.